E' evidente che ringraziamento a tutti, ma non faccio altro che confermare quanto ho appena detto. Voi meditate davvero molto e questa rielezione qui in questo mondo è la prima volta premessa che è letto senza un contendente. Ci carica di molti più responsabilità di quanto voi non immaginate, quindi metteremo tutto il meglio di noi stessi. Grazie. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, quinto punto, elezione di sette componenti del Consiglio Direttivo del Comitato. Anche per queste votazioni i candidati, che sono sette, tanti quanti sono i posti disponibili nel Consiglio Direttivo, mi hanno chiesto di procedere alle votazioni per alzata di mano. Io chiedo ai candidati che sono più presenti se sono d'accordo, confermano questa riuscita. Bene, allora io leggerò i nomi, uno per uno in ordine alfabetico. Per Balloi Silvano, chi è favorevole all'elezione del Consiglio del Comitato? Alzi la mano. Giù? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Silvano Balloi viene eletto all'Una Militata. Faccio il nominativo di Gianni Cadoni. Chi è favorevole all'elezione di Gianni Cadoni al Consiglio del Comitato? Alzi la mano. Chi è contrario? Giù, giù. Chi è contrario? Chi si astiene? Chi si astiene? Elezione di Gianni Cadoni al Consigliere del Comitato? Allora, lì. Carta di Cartattino. Chi è favorevole all'elezione di Cartattino al Consigliere del Comitato regionale? Per il quadrieno 2012-2016, sollevi la mano. Io ti ho votato. Giù. Chi è contrario? Chi si astiene? Tutte. Un astenuto? No? Bene. Allora, anche Cartattino ha una milita. Grazie, signori. Desini Roberto. Chi è favorevole all'elezione di Desini Roberto, sollevi la mano. Io mi voto. Io mi voto. Grazie, giù. Grazie, giù. Chi è contrario? Chi si astiene? Desini è eletto all'unanimità alla Camera. Che cofele, chi è favorevole all'elezione del suo, che cofele al Consigliere del Comitato, sollevi la mano. Giù. Chi è contrario? Chi si astiene? Chi si astiene? Chi è favorevole all'elezione di Paolo Manca, Consigliere del Comitato, sollevi la mano. Giù. Chi è contrario? Chi si astiene? Paolo Manca, eletto al Consigliere del Comitato, sollevi la mano. Ed infine, Chico Ruggeri. Chi è favorevole all'elezione di Chico Ruggeri? No, no, no. Ad esempio, nel 12.2016, al Consigliere del Comitato, alzi la mano. Giù. Chi è contrario? Chi si astiene? Chi si astiene? Buongiorno, io faccio complimenti a tutti gli eletti e complimenti all'Assemblea per la correttenza e la disciplina con le quali stiamo procedendo nelle votazioni.